Ciao! Ehi tu, vieni, ti faccio vedere una novità. Si tratta di Smotard, lo conosci? Vieni! Allora, Smotard è una novità italiana, è un tubolare e multifunzione. Guarda questa! Smotard, tubolare e multifunzione senza cuciture, ti fai una tazia, lo indossi in questa maniera e ti fai la fuga. La tovaglia della nonna. Eccola qua, prego, metti la tovaglia della nonna. Questa cosa ti permette imparare? Noda dietro e ti impedisce i movimenti. Hai il pezzettino sul casco che ti fa l'umore. Hai voluto vedere la faccia come fai? In questa maniera abbiamo colla, faccia, microfibra, microfibra. Il sottocasco lo facciamo? Via! Andiamo di sottocasco. Collo e sottocasco. E volendo agli effetti. Condizioni estreme. Condizioni estreme. In questa maniera abbiamo un certo fatto. Collo e cappelli sottocasco. La bandana, la vuoi fare? Eccola qua. In questa maniera facciamo la bandana. Vuoi fare la bandana calabierola tirata? Vieni di sottocasco. Ecco qua. Se anche voi non volete tribulare come sta facendo lui, vi aspettiamo smontare per un prodotto multifunzione. Ciao!